Buongiorno a miei piccoli capri ben trovate, oggi ripassiamo la scuola siciliana e Amorion Desio che viene da Corre, che è un sonnetto di Giacomo D'Alentini. Allora, come dice il nome dell'argomento, siamo in Sicilia, siamo alla corte di Federico II, che è imperatore tra il 1230 e il 1250, vive a Palermo in un palazzo splendido e i suoi funzionari di corte, i suoi nobili, i suoi notai, avvocati, tutte le personalità che ruotano, ufficiali che ruotano attorno al sovrano, nel tempo libero, per intrattenerlo e per animare la vita di corte, si mettono a ragionare d'amore, a parlare di poesia, in particolare riprendono i temi della poesia più in voga in Europa in quel momento, cioè la poesia provenzale, la poesia dei trovatori, il concetto dell'amor cortese, e lo sviscerano, lo analizzano in maniera che a volte è un po' formale, un po' arida, non è, come dire, e sincera, lo fanno perché questo genere di ragionamenti è gradito al sovrano e soprattutto perché di fronte ad un imperatore non si può trattare esattamente a qualsiasi argomento e dire ciò che si vuole. L'amore è un argomento neutro che permette a tutti di partecipare alla vita sociale della corte e in particolare è semplicemente un tema di moda. Le poesie della scuola siciliana, che possiamo chiamare scuola appunto perché tutti questi poeti, che non sono poeti di professione, convivono nello stesso ambiente, nello stesso tempo, si conoscono e si scambiano idee, ha come obiettivo quello di analizzare la dinamica dell'amore, cioè come ci si innamora, quale sia il processo che ti porta ad innamorare e quali siano le sue conseguenze in società. Sempre riprendendo i temi e le forme anche dell'ierica provenzale, Giacomo Dalentini è la prepista, è il primo autore, che in particolare prende la stanza della canzone provenzale, la rimaneggia, la risistema in maniera semplice ma pronta come strumento per ragionare, creando questa forma poetica, che in assoluto sarà la forma poetica più fortunata della letteratura italiana, la forma più celebre della poesia d'amore, che è il sonetto. È composto da due quartine e due terzine, cioè due blocchi di quattro e di tre versi, ciascun verso è di undici sillabe, per cui abbiamo un totale di quattornici versi. Funziona come un ragionamento, lo vedremo in questa poesia, perché nella parte iniziale vengono esposte le tesi, poi si procede ad una dimostrazione e la fine serve a mo' di conclusione. Leggiamole e facciamo la parafasi innanzitutto. Amore è un desiderio che vende a cuore per abbondanza di gran piacimento e gli occhi in prima generano l'amore e lo cuore gli dà nutricamento. Cioè, l'amore è un desiderio che nasce nel cuore per abbondanza di grande piacere, di grande bellezza. Per prima cosa gli occhi generano l'amore e poi il cuore lo nutre. Per ben alcuna fiata, un uomo amatore si sa vedere il suo innamoramento, ma quell'amore che stringe con furore dà la vista degli occhi a nascimento. È vero che a volte uno si innamora senza aver visto l'oggetto del suo amore, ma quell'amore che stringe con forza il cuore nasce dalla vista degli occhi, cioè si ribadisce il ruolo centrale della vista per creare l'amore e si contraddice una delle tesi dell'amore cortese che ci si potesse innamorare anche da lontano, senza aver mai visto la propria innamorata. Perché? Arriviamo alla dimostrazione. Gli occhi rappresentano allo cuore l'ogni cosa che vede in bono e rio come formata naturalmente, cioè perché gli occhi mostrano al cuore il bene e il male di ogni cosa che vedono, la mostrano così com'è nella sua forma naturale, lo sguardo non mente, secondo Giacomo Dalentini. E lo cuore che l'izzoe concepitore immagina e gli piace quel desio e questo amore regna fra la gente. Il cuore, che riceve dagli occhi tutto ciò, lo trasforma in un'immagine idealizzata e gli piace quel desiderio che prova in conseguenza di questa visione. E questo amore che ne nasce, che scaturisce da questa immagine, che dagli occhi attraverso gli occhi è passata al cuore e il cuore ha trasformato con l'immaginazione, fa nascere un amore che governa gli animi delle persone, cioè l'amore cortese, l'amore quello che regola i rapporti tra gli esseri umani nella migliore delle maniere. Allora, abbiamo già detto il punto chiave di questo sonetto, è un ragionamento sostanzialmente, che vuole descrivere innanzitutto come nasce l'amore, poi che cos'è l'amore e quale conseguenze di questo amore ha, anche rispondendo alle obiezioni di chi non ha la stessa visione di Giacomo Dalentini. Sembra quasi un teorema, per la sua precisione. L'altra cosa che dobbiamo notare è che si parla di amore in termini estratti, non viene mai nominata l'amata, non viene mai descritta la bellezza della donna, in più è una donna ideale, non è una donna in carne ed ossa, è un'idea più che una persona. In questo senso questa poesia, potremmo dire, non è particolarmente sincera, perché non è il poeta che si è innamorato di una donna e ne canta l'amore, è più un ragionamento filosofico astratto che ci fa capire il contesto di questa corte di scorre d'amore in maniera più teorica, ma anche pratica. Allora, vediamo un attimo com'è di analizzare il contenuto. Le due quartine sono dedicate, la prima, alla tesi, cioè il fatto che l'amore sia qualcosa che nasce nel cuore passando attraverso lo sguardo. L'antitesi serve a controbattere eventuali obiezioni alla tesi, cioè è vero che qualcuno dice che si può amare senza vista, ma quello non è amore vero, perché non stringe con furore. Quello che stringe con furore nasce dagli occhi, quindi si ribadisce la tesi. Adesso bisogna dimostrare che io ho ragione e che hanno torto i miei avversari. Quindi il primo argomento è il ruolo della vista. Gli occhi mostrano le cose così come sono, non si può mentire allo sguardo. Noi diciamo l'apparenza inganna, però Giacomo Dalentini dice l'occhio innamorato sa vedere la realtà sotto l'apparenza e quindi è quella natura intrinseca della donna, la natura vera che fa innamorare l'uomo, non è semplicemente l'aspetto. Secondo argomento, il cuore una volta che ha ricevuto questa immagine l'arricchisce con la fantasia, con l'immaginazione, la idealizza, la rende perfetta, toglie sostanzialmente tutti i difetti e tiene la parte migliore dell'amata, trasformandola così in ideale. Noi potremmo obiettare ad esempio che le persone sono fatte anche di difetti e non solo delle parti migliori, però se ci pensiamo bene, ciascuno di noi idealizza in una certa misura la persona di cui è innamorato. In conclusione, ultimo verso, proprio a chiusura, l'amore diventa un sovrano degli esseri umani, perché tutti gli uomini che si sono innamorati devono obbedire alle sue regole, che sono le regole dell'amor cortese e quindi quella che Giacomo Dalentini immagina è una società che diventa migliore grazie all'amore, se la gente si innamora e segue le regole dell'amore tutti ci comportiamo meglio. Questo in sostanza è il ragionamento. Vediamo ancora due cose dal punto di vista delle analisi retoriche. Allora, innanzitutto notiamo un'anafora, gli occhi e lo core. In più, questi due versi sono anche legati da un parallelismo, perché gli occhi generano l'amore, il cuore da nutricamento. La disposizione del parallelismo è ordinata. Gli occhi da un lato e l'amore è la conseguenza dall'altro, il cuore da un lato e la conseguenza dall'altro. Notiamo anche, al di là dello schema delle rime normali, un'assonanza, amor-furore. Sono due parole che si assomigliano molto. Possiamo parlare di rime interna perché sono all'interno del verso e non sono all'inizio e alla fine. In più dobbiamo notare che non è un caso che queste due parole siano collegate dal suono, amore-furore, ma anche dal contenuto, dal tema. Questo amore, quell'amore vero, è un amore che porta al furore. Attenzione che non siamo di fronte al furore che provava Jacopone da Todi parlando del suo amore per Dio. È un amore, come dire, è un po' di maniera, è un po' formale questa dichiarazione che l'amore debba stringere con furore. Perché, come abbiamo visto prima, questa non è una poesia che brucia d'amore, è una poesia un po' più astratta, un po' più fredda. Ecco, se vogliamo. Notiamo ancora, di ogni cosa che veden, bono e rio, è un'inversione, cioè vedono, rappresentano al cuore il bene e il male di ogni cosa che vedono. C'è un'inversione dell'ordine normale della frase. E in più c'è anche un'antitesi che contrappone il bene e il male. Bono e rio, messi qua vicino, sono in antitesi l'uno con l'altro. In più, l'ultima cosa che possiamo dire di questa poesia è che ha un ritmo, visto che è una poesia che deve essere logica, e quindi deve essere chiara, deve essere comprensibile. Se guardiamo le congiunzioni, è evidente nella parte finale del sonetto, prevale la paratassi, cioè la coordinazione. E è la congiunzione più semplice. Se io voglio farmi capire, voglio fare un ragionamento chiaro, dovrò utilizzare una maniera semplice per farmi capire dal mio lettore. In più, vi faccio notare che anche qui E, 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 anche se formano questa forma a triangolo, costituiscono un'anafora della E. Addirittura, se guardiamo meglio la geometria di questo sonetto, i sonetti essendo testi molto brevi, ci permettono di ragionare anche sulla geometria della disposizione delle parole, queste E incorniciano, se possiamo dire così, la parola chiave del sonetto, cioè immaginare, vale a dire trasformare una cosa concreta in un'immagine astratta, in un'idea, e l'idea, secondo Giacomo D'Aventini, è più perfetta dell'amore, perché ci abbiamo tolto tutti i difetti, e quindi possiamo parlare di un amore fortemente idealizzato. Va bene, per quanto riguarda Giacomo D'Aventini ci possiamo fermare qui. Arrivederci alla prossima puntata per un ulteri approfondimento. Buono studio, capre, ciao!